Quando all'FBI arriva un pettegolezzo o un'informazione del tipo ho visto quel senatore insieme a un'altra donna, non con sua moglie o con un uomo. Noi siamo tenuti a scrivere tutto e lo facciamo. Tutti i vostri segreti sono al sicuro con noi. Ecco a voi il grande cacciatore di draghi e custode del sogno americano. Mark Felt, integrità, fedeltà, coraggio. Gli uomini che hanno fatto irruzione al Watergate non sono la testa del mostro, ma la coda. Il nostro compito è seguire le tracce sul terreno. E tutte le tracce sembrano portarci dentro la Casa Bianca. Niente più colloqui con membri della CIA o della Casa Bianca senza permesso. Cosa? Dobbiamo chiudere le indagini entro due giorni. Loro non ti meritano, ti devi dimettere. Nessuno può fermare la forza di un'indagine dell'FBI. Nessuno, nemmeno l'FBI. In tanti anni che ti conosco non hai mai fatto trapelare un solo segreto. Adesso ci togliamo i guanti. Quello che fai farà crollare tutto il castello di carte. Washington Post? C'è una spia nell'FBI. È un'informazione riservata dell'FBI questa. Ce l'ha la Casa Bianca e ora ce l'hai anche tu. A volte dobbiamo tradire ciò che amiamo per salvare ciò che amiamo. Sono al sicuro. Nessuno lo è. Sono qui! Loro sentono tutto. C'è sempre un prezzo da pagare per quello che facciamo. Abbiamo setacciato ovunque. Fatelo di nuovo! E lo paghiamo tutti, in un modo o nell'altro. Le abbiamo dato un soprannome al giornale. Gula profonda.